Ciao. Bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Bill Cosby sta affrontando una nuova causa per violenza sessuale. Il Washington Post riferisce che l'ex modella di Playboy Victoria Valentino ha citato in giudizio l'85enne per un episodio avvenuto nel 1969. Non si tratta di soldi. Si tratta di responsabilità, ha detto la presunta vittima. Aggiungendo che, lo stupro ti ruba qualcosa che non può essere riparato o ripristinato. Valentino, che ora ha 80 anni, si è fatta avanti per la prima volta con le sue accuse contro Cosby nel 2014. È stata in grado di intentare causa oggi grazie a una legge della California che revoca temporaneamente i termini di prescrizione sui casi civili di violenza sessuale. Valentino ha osservato di essere stata ispirata a intraprendere un'azione legale a causa della recente vittoria del giornalista e. Jean Carroll in un processo per stupro civile contro l'ex presidente Donald Trump. La sua denuncia arriva anche dopo che cinque donne hanno citato in giudizio Cosby nel dicembre 2022 per violenza sessuale. Utilizzando una legge simile di New York che ha concesso una finestra temporanea di. Ricerca. Nella sua causa Victoria Valentino descrive di essere angosciata dalla recente morte del figlio di sei anni. Afferma che Cosby l'ha vista piangere in un ristorante e le ha offerto una pillola più tardi quel giorno. Dicendo che l'avrebbe fatta sentire meglio. Secondo Valentino. Anche un'amica con cui era appreso una pillola da Cosby. Valentino afferma di essersi poi svegliata vedendo Cosby avvicinarsi alla sua amica. Presumibilmente il tentativo di Valentino di proteggere la sua amica ha fatto arrabbiare Cosby e lui l'ha violentata. Valentino ha citato in giudizio sia Cosby che i dipendenti che sostiene abbiano consentito la sua aggressione. Che intende identificare durante il processo di scoperta della causa. Andrew Wyatt. Portavoce di Cosby. Ha affermato in una dichiarazione a People che Valentino non ha prove o fatti a sostegno delle sue accuse. L'America continua a vedere che questa è una formula per assicurarsi che nessun altro uomo nero in America accumuli il sogno americano che è stato assicurato dal signor Cosby, ha detto Wyatt. Ad oggi Cosby è stato accusato di violenza sessuale, molestie sessuali e abusi sessuali da più di 60 donne. Ha negato le accuse. Cosby è stato precedentemente condannato penalmente per violenza sessuale e ha scontato più di due anni in una prigione della Pensilvania. Alla fine è stato rilasciato nel giugno 2021 a causa di un precedente accordo secondo cui non sarebbe stato perseguito e le sue accuse di crimine sono state annullate. In tribunale civile. Tuttavia, Cosby è stato ritenuto responsabile per aver aggredito sessualmente una ragazza di 16 anni al Playboy Mansion nel 1975. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.